Martina Cinefra Andrea Garbanti è una formula molto particolare quella che di fatto caratterizza questa cerimonia innanzitutto abbiamo un artista che riconosce ad altri artisti il valore dell'impegno e della ricerca ed è una cosa rara, straordinaria e importantissima siamo felici di ospitarlo sempre qui presente quindi in una condizione in cui ci possa essere un confronto diretto fra gli studenti e anche l'artista che di fatto incontra e può scambiare con un linguaggio comune le impressioni, il valore e le parole che solo gli artisti possono trovare fra di loro l'Accademia è ovviamente appunto orgogliosa sia dei propri studenti sia di questo connubio, di questo rapporto che si è creato nel tempo e che si consolida di volta in volta Chiara Capuana Posso dire che è una bellissima occasione questa di questo premio che è stato dato ormai da diversi anni agli studenti meritevoli di Brera che è stato dato anche il premio alla carriera ad alcune persone ex docenti o ed ex docenti di Brera e quest'anno verrà dato a una grande artista già docente di Brera che si chiama Grazia Varisco Sono onoratissima di essere presente in questa sede per poter presentare non solo l'artista ma anche presentare quelle che sono queste fusioni tra l'Italia e tra questa isola meravigliosa tra questa realtà Paslin ha fatto diverse mostre sarà presente alla Biennale di Venezia l'anno prossimo devo dire che spero tanto che la sua arte abbia una grande influenza a questo punto sulla nostra realtà perché anche questi gesti che lui ha di spargere le opere di polvere d'oro d'oro reale cioè fa un'azione di alchimia estremamente generosa e importante e non è solo un discorso di buon auspicio ma è un discorso di grande e buona fede della personalità di Paslin ma della grande generosità di Paslin d'animo e d'amore e che è quello che manca nella nostra società in questo momento Siamo particolarmente orgogliosi di questo artista in quanto lui nelle sue opere porta i messaggi di pace e di amore un amore che lui porta in diversi ambiti attraverso la Art by You Foundation perché mette in pratica questo amore che ha verso le persone un esempio è quello di oggi dove lui consegna da tre anni questa è la terza edizione dove consegna premi ai studenti meritevoli di Brera premi anche altri artisti per la loro carriera quindi siamo felici per questo aspetto diciamo altruista e generoso di questo artista e siamo felici poi di proseguire la nostra collaborazione realizzando una nuova mostra l'anno prossimo durante la mia bilennale d'arte del 2024 dove potremo vedere anche nuove opere un nuovo percorso che Pagelin l'artista ha intrapreso nella sua opera grazie grazie